Allora Dunque siamo arrivati a livello 5 Continuiamo l'avventura con il bardo Quindi qua avevamo preso una missione Se non mi ricordo male Esatto Basciamo un po' il volume Allora Parla di invocazioni con Zendari Nailo Quindi quest'oggi andiamo a sbloccare le preghiere Quindi andiamo di qua dove dice lui A parlare con Tizio A sbloccare eventualmente le preghiere Ok Allora Parla Vorrei sapere di più Cos'altro mi puoi dire Bla 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 Grazie Arrivederci Ok abbiamo sbloccato le preghiere Quindi L1 freccia destra E facciamo la nostra prima preghiera Tramite le preghiere guadagniamo moneta ardente Moneta celestiale E tramite queste due valute Praticamente Possiamo acquistare in futuro oggetti qua Ok Qui nel menu cripta della pietà Qui ci sono le varie pozioni Qui casse con dentro oggetti utili Se casomai li droppasse Però sappiamo tutti com'è Però vabbè Allora a questo punto Torniamo Indietro A parlare con chi di dovere Dice Discuti del compagno con N'Gong Che non ho idea di chi sia Però andiamo Dice di andare qua su E ne andiamo qua su Tu mi dici quello che devo fare E io lo faccio Quindi parla Andiamo a sbloccare anche i compagni Praticamente Mi manda Ciccio Calogero Parlami dei compagni Sono pronto a scegliere il compagno Quindi uomo d'arma Apprendista guaritore Mago stinato E cane Vediamo Posso leggere No non posso Comunque Allora Tra quali posso scegliere Ok no Neanche quello sotto che dice Parlami dei compagni Blah 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 Sempre la solita roba Dunque io prenderei Il mago stinato Anzi L'uomo d'arma Ma è uguale Alla fine Per voi che è la prima volta Probabilmente Vi verrà distinto Prendere il guaritore Ma Uguale Prendete Chi vi fa più comodo Alla fine Sono tutti e quattro Compagni bassi Secondo me Cioè io prenderò Il mago stinato Molto probabilmente Eh sì Prendo il mago stinato Ok E lo chiamiamo Ostile Così Ostile Ok fatto Allora Qua Non possiamo ancora Equipaggiare 5 compagni Perché dobbiamo arrivare A livello 15 E 20 Quindi Adesso Evoca un compagno Ok Evoca un compagno Congeda E rievoca Evoca un compagno Completato Ok Parla dell'equipaggiamento Confine Dove cavolo È il cicciocalorgero È sempre questa A quanto pare Invece no Comunque Eccoli i compagni Il cane Severità Potere Vabbè Comunque Allora Mi posso buttare Sì Con chi devo parlare Perché mi rimandi su Le 5 chiavi del successo Ah con questo qua Forse Sì con questo qui Bello che La strada illuminata Dice di andare qua E dobbiamo invece andare qui Molto bene Quindi parliamo con questo Equipaggiamento del compagno Ok Completato Praticamente ci spiegano Che possiamo Mettere l'equipaggiamento Qua E adesso qui ce l'ho già Però Ecco Ci spiega che possiamo Equipaggiare qui le cose Allora Allora Dunque scendiamo Parla Dei sigilli Con Alluro Zuri Quindi abbiamo Sbloccato le preghiere Il compagno E qua invece si parla De che? Ah ok Dei sigilli Penso Delle code Perché tramite le code Noi andiamo a guadagnare Sigilli Che è qui Non so se li mostra Ok Non li mostra Forse qua Ok Forse si Forse no No Non li mostra Comunque vabbè Abbiamo Abbiamo sbloccato i sigilli Credo Usualizza le merci generiche Si esatto I sigilli dell'avventuriero Quelle robe lì E tramite i sigilli Per esempio Qui i sigilli dell'avventuriero Possiamo comprare Questi oggetti Molto bene Ok Questa cos'è? Volevo vedere l'aspetto Vabbè Questi sono gli aspetti Di questi oggetti Diamo uno sguardo veloce Questo non ha capito Ah questo è quello personale Forse no Che roba è? Ah è la spada Cioè La chitarra credo Non lo so Lo stocco Questa è la chitarra Ok Braccia Gambe Vediamo le braccia Come so Abbastanza carine Dai Vabbè Ok La maglia Vabbè Comunque Allora Adesso Dobbiamo parlare con Knox Code Quindi Ci spiega La storia delle code Esatto Le 5 chiavi del successo Praticamente Questa sarebbe la vecchia Le vecchie missioni Per sbloccare un po' di robe Una volta c'erano 5 missioni Per sbloccare il commercio L'asta La chat E sta roba così Ora che imparate cosa sono i forzieri Le invocazioni Sigilli Compagni E le code È arrivato il momento Di ripartire Quindi ci dà questi oggetti Qui Per aver completato Queste Chiacchiere Che abbiamo fatto con sta gente Adesso a me questi qui non mi servono Perché ce li ho già Però ecco Prendiamo Ok Compagnia di lupi Ok Qui Adesso ci iniziamo a andare Nella prima mappa Fuori da Neverwinter E ci dice di andare Nella mappa di Vellosk Ok Accetta Accettiamo Accettiamo Grazie per il follow Thanks for the follow E accettiamo Ok Quindi Dobbiamo andare a Vellosk Va bene Ok Vediamo un po' Preghera l'ho fatta Allora Questa Fa parte della campagna Campo di battaglia di cenere Questo è un evento Questa è un'altra mappa Mappa Costata Campagna Distratto del fiume È diventata un'avventura Quindi Credo Albero delle anime Il livello oggetto 26.000 Una casa da salvare Ok Questa È una campagna È la campagna di Avernus Questa l'abbiamo sbloccata Stronghold Allora Io direi di andare a Stronghold E Sbloccare qualcosina In fortezza Ok Stronghold La tua gilda Ok Intanto condividiamo questo video E lo pubblichiamo su YouTube Poi a seguire Man mano che livelliamo il bardo Pubblicheremo altri video Con questo vi saluto A chi sta guardando il video su YouTube Ci sentiamo al prossimo video Nel mentre Continuiamo la live qui su Twitch E lo pubblicheremo il video